Elisabetta Canalis scandalosa. Mostra al seno completamente nudo sui social. Ancora una volta Elisabetta Canalis, delizia i suoi fan mostrando le sue grazie, ma questa volta qualcuno inizia a giudicarla scandalosa. Nell'ultima foto postata sui suoi social ufficiali infatti, l'ex velina distriscia la notizia, mostra al seno completamente nudo. Uno scatto, in bianco e nero, che ha fatto impazzire molti dei suoi follower, facendone indignare però molti altri. Nello scatto in questione la bellissima Shokjiro si mostra in tutta la sua naturalezza e sensualità. Fisico atletico e addominali scolpiti. Una foto di profilo che lascia intravedere quasi totalmente uno dei seni di Elisabetta Canalis. Lo scatto reso ancora più sexy, dal filtro in bianco e nero. Non ha però convinto tutti i follower oltre alla balanga di complimenti, sono arrivate diverse critiche dal web. La foto postata da Elisabetta Canalis sul suo profilo Instagram ufficiale, ha generato pareri contrastanti sul web. Se qualcuno ha commentato lo scatto sensuale con parole come, eternamente bella. Qualcun altro ha commentato ironicamente. Seguendo il tuo profilo Insta sto perdendo le diottrie che non ho perso con il calendario Max del 2002. Ma non sono mancati i commenti di chi, si è indignato per scatto provocante della Shokjiro. E ha voluto far presente. Da donna, mi chiedo a che serve pubblicare foto così? Insomma Eli, ha un po' esagerato questa volta. Per qualcuno forse sì, ma gli ammiratori non hanno cessato di dimostrare la loro approvazione. Il dettaglio piccante nello scatto dal passato. Elisabetta Canalis sarà posta una foto pubblicata da una fanpage dedicata a lei. Ma i fan notano un dettaglio bollente dallo scatto senza reggiseno. L'ex velina distriscia la notizia, sicura di fare un gesto gradito a tutti i full lover e a coloro che la seguono con passione da sempre. Ha voluto ricondividere un'immagine del passato, postata dal team Canalis. Elisabetta Canalis agli esordi, con la frangetta inconfondibile e la bellezza senza tempo, stupisce tutti i fan. Lo scatto innocente, però nasconde un dettaglio molto sexy. Nella foto la subrette indossa una canotta che lascia intravedere il fisico perfetto già da ragazzina. Elisabetta Canalis. Il dettaglio sexy che non sfugge ai fan. Nello scatto da appena 18 anni, pubblicato dall'ex velina distriscia la notizia, la bella El indossa una canottiera sotto la quale manca il raggiseno. La mise sexy della Canalis, non sfugge ai fan che notano subito quel dettaglio. Si vedono i cab. I follower non possono fare a meno di notare il particolare oltre agli innumeregoli. Sei bellissima, un utente ironicamente chiede ad Elisabetta. Avevi freddo? Una chiara allusione al dettaglio sul seno in mostra. Siamo il progetto per avere maggio.